Il respiro della vita, il simbolo del Chai. Nel vasto universo dei simboli, pochi hanno il potere di evocare un senso di sacralità e profondità come il simbolo del Chai. Questo emblema, radicato nella cultura ebraica, è una danza silenziosa tra le lettere, un canto che celebra la vita stessa. Immagina di camminare lungo le strade di una città antica, dove ogni pietra racconta una storia. Le ombre del passato si muovono tra gli angoli, sussurrando segreti di tempi ormai dimenticati. E lì, inciso su un muro, vedi il simbolo del Chai. Esso è come un fiume che scorre attraverso la storia, portando con sé le storie di generazioni di credenti. Il Chai, con le sue lettere ebraiche Chet e Yud, è una parola che significa vita. Ma non è solo una parola, è un'invocazione, un grido di gioia e di speranza. È un richiamo alla vita, al respiro che anima ogni essere vivente. E come ogni fiume ha le sue sorgenti, così il Chai ha le sue radici nell'antichità, associato alla cultura ebraica solo nel ventesimo secolo, ma risalente a tempi ben più antichi. Nella cultura ebraica, la protezione della vita è un principio fondamentale. Il simbolo del Chai è come un faro, illuminando il cammino di chi cerca la sacralità in ogni angolo della vita. Questo simbolo, che una volta adornava le architetture e i dipinti ebraici, è diventato un amuleto, un segno di protezione contro le forze oscure del mondo. Ma il Chai non è solo un simbolo statico, è un rituale, un gesto. Quando le persone alzano i loro calici in un brindisi, pronunciano il Kaim, che significa la vita. È un momento di comunione, un riconoscimento della sacralità della vita e della presenza di Dio in ogni momento. E come ogni simbolo, il Chai ha le sue sfumature, le sue profondità. Nella gematria, l'antica numerologia ebraica, le lettere dell'alfabeto ebraico hanno valori numerici. Il Chai, con il suo valore di 18, è considerato un numero di buon auspicio. È un numero che parla di rinascita, di un nuovo inizio, di un ciclo che si rinnova. Ma forse, la più potente evocazione del Chai si trova nella frase AM Israel Chai, che significa il popolo di Israele vive. Questa dichiarazione, nata nel cuore dell'Olocausto, è un grido di sfida contro l'oscurità, una proclamazione di speranza e di resistenza. Il Chai, oggi, non è solo un simbolo relegato ai libri di storia o alle antiche sinagoge. È vivo e vibrante, adornando gioielli, t-shirt e persino opere d'arte moderne. È un ponte tra il passato e il presente, un legame tra le generazioni. Chiudendo gli occhi, possiamo immaginare il Chai come un albero maestoso, le cui radici si immergono profondamente nella terra della tradizione, e i cui rami si estendono verso il cielo infinito del futuro. Ogni foglia è una storia, ogni ramo è una generazione, e il tronco solido e forte è la fede che sostiene tutto. In un mondo in cui tutto sembra effimero e transitorio, il Chai ci ricorda che la vita è sacra. che ogni momento è prezioso e che, nonostante le tempeste e le sfide, la vita, come un fiume, continuerà a scorrere, portando con sé la promessa di un domani migliore.